voglio guardarti meglio il sangue del cuore di tutti gli innamorati adesso guarda attentamente io ti appartengo tu mi appartieni accendiamo il fuoco sacro delle candele prepariamo il nostro rito propiziatorio direi che c'è un bel po' da sistemare qui sopra c'è proprio un bel disordine e oggi gli oggetti hanno un suono molto particolare non capisco se questo sia un segno del fato un rumore di passi questi spiriti certo che vivere in un castello infestato ai suoi contro non c'è mai un attimo di silenzio passi continui di fantasmi che portano le proprie catene su e giù per le scale di questo castello bisogna mettere un po' di ordine che ora è? che ora è? sono le 21.30 questo orologio è fermo da anni da quando precisamente feci quell'incantesimo per fermare il tempo lo ricordo molto bene è arrivato il momento di aiutare qualcuno tu vieni dico a te dai avanti puoi sederti ho bisogno di guardare dentro ai tuoi occhi avvicinati voglio guardarti meglio credo 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 proprio di poter indovinare il motivo per cui sei qui da me questa sera hai un problema economico giusto? non è quello allora un esame da superare? ah no 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 ci sono non riesci a dormire? beh sono specializzata in questo posso darti in effetti una pozione che no fammi vedere meglio di solito non mi sbaglio ah ho capito il tuo è un banalissimo quanto comune problema d'amore problema d'amore ah mi dispiace non posso proprio 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 aiutarti ho finito tutte le mie risorse per i problemi d'amore e poi continuo a non capire a che cosa serve l'amore per quale motivo vi innamorate così spesso non sarebbe molto più semplice non innamorarsi affatto questa questa si è una è una pozione d'amore in effetti ma è molto 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 costosa e in effetti non credo che tu possa permettertela si tratta di un liquido magico che ho richiuso in questa bottiglia se ti stai domandando perché la bottiglia è a forma di cuore la risposta è presto detta questa pozione contiene il sangue del cuore di tutti gli innamorati versato per le ferite d'amore ma dentro c'è anche un elisir di lunga vita e per questo penso che tu proprio non possa permettertelo beh perché per dare lunga vita all'amore c'è bisogno di un sacrificio molto molto grande e costante e tu? cosa puoi dare? hai portato il dono? il dono per me? forse possiamo ripiegare su qualcosa di più economico appoggia pure lì tutto quello che hai uno due tre quattro quattro bacche della notte interessante dunque con questo pagamento posso creare una nuova pozione su misura per te un filidro d'amore con un incantesimo che ti aiuterà in maniera collaterale mangerò le quattro bacche e poi ti spiegherò di che cosa si tratta l'hai raccolta in una notte di luna piena? l'hai raccolta in una notte di luna piena? hanno un buon sapore buonissima bene grazie per questo dono la pozione consiste nel far addormentare la persona che ami mi dispiace più di questo non posso proprio fare però una volta che star addormento potrai forse ripetere le parole dell'incantesimo e con un messaggio subliminale provocare l'amore non sono assolutamente sicura che funzioni ma credo anche sia la tua unica chance quella di provare che ne dici? bene 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 allora direi di iniziare ti chiedo di concentrarti su ogni mio movimento su ogni mia parola adesso guarda attentamente questa bottiglia magica osserva la polvere di fata che ho racchiuso all'interno ecco ecco stato il sacrificio di ben quattro fate è molto prezioso con questa noi diluiremo il tempo diluiremo il tempo diluiremo il tempo lo faremo scorrere più lentamente e faremo sopraggiungere la notte una notte una notte lunga e oscura una notte senza sogni e Luca se provoca bracadabra bracadita sono le streghe di Capri devo ovviamente andare a cercare l'incantesimo giusto un po' di pazienza questo è un libro molto antico un libro di incantesimi scritto in lingua elfica conosci la lingua elfica? che strano vediamo vediamo come fare addormentare dormire ecco ora facciamo ancora di più gradi delle vite adesso il grande do ah dovrei avere tutto teniamolo qui allora per prima cosa mi occorre una un barattolo un barattolo nel quale inserire un tuo capello forza avvicinati ancora devo solo prendere un capello ecco così molto bene poi 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 qui dice di inserire quattro gocce di lacrime le prenderò da qui queste sono lacrime speciali sono lacrime versate durante le notti insonni dagli amanti che hanno commesso tradimento e vanno dosate davvero con cura una goccia in più potrebbe rovinare tutto bene ah che buon profumo poi 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 che altro ha un pezzetto di piuma di uccello del paradiso ce l'ho eccola questo uccello viene spesso a farmi visita è un uccello azzurro chissà che cosa ci trova di interessante in questo castello infestato ogni tanto si lava le piume me ne lascia qualcuna in regalo mettiamo un po' dentro un pezzetto di questa piuma ok un pezzetto di piuma di uccello dell'isola che non c'è o anche questo lo dicevo che oggi gli oggetti hanno un suono particolare prendiamolo un pezzo ok infine ah no molto molto importante e senza di sudore perché? lo so questo è contro il caldo eccola questa questa è presa direttamente dalle ascelle delle persone che sudano durante le notti d'estate ah che profumo spruzziamone qualche goccia è un po' di tempo che la sto utilizzando ma va bene e ok l'ultimo ingrediente è l'ingrediente segreto contenuto in questa boccetta piccola 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 e ce ne vuole proprio poco poco e no non posso svelarti di che cosa si tratti ogni strega che si rispetti ha i suoi segreti in cucina mescoliamo bene mettiamola all'interno della pozione magica wow è fantastico bene adesso il rito propiziatorio si conclude con il mio giuffetto dei sogni che serve a scacciare la negatività a amore di crocette il singolo è tanto non rucce l'otto griglotto ruopi che ricorreggio il ruolo di griglotto griglotto rotibli griglotto griglotto rucce 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 griglotto rucce griglotto 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 rucce griglotto griglotto devo solo mescolare un pochino adesso ah perfetto bene ecco questa è per te te la lascio qui mi raccomando dalla da bere alla persona che ami prima che si addormenti deve addormentarsi necessariamente nel tuo letto e trascorrere tutte le ore del suo sonno accanto a te a quel punto potrai pronunciare le parole magiche dell'incantesimo dovrai semplicemente dire io ti appartengo tu mi appartieni io ti appartengo tu mi appartieni no lo scettro non è incluso questo serve per renderti capace dell'incantesimo pronuncia queste parole mi raccomando e continua a pronunciarle per tutta 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 che la persona che ami sarà tua non per sempre per quello ci vuole tutt'altro che un incantesimo di questo tipo vuoi andare? addio io torno a occuparmi dei miei fantasmi buonanotte e buon halloween bene Grazie a tutti